Ciao a tutti ragazzi, colgo delle belle giornate soprattutto perché ha rinfrescato, a fare qualche video anche un po' all'aperto. Il video di oggi è un breve, spero, vlog del motivo per cui sono passato dal Crossfire ad LRS. Non ho più un drone con Crossfire, il motivo principale è anche stato dovuto dal passaggio alla Boxer con il modulo interno LRS e per questo vuoi per comodità, vuoi perché da un annetto che sto provando LRS mi sono trovato bene, ho deciso di trasferire tutti i droni da Crossfire ad LRS. Ho mantenuto solo un modulo per magari qualche recensione, insomma perché magari capita di dover bindare un drone con il Crossfire ma per il resto riceventi sui droni e altri moduli ho dato via tutto. Partiamo dalla radio, allora la radio, la Boxer che posso dire che al momento è la miglior radio con cui mi sto trovando piccolo spoiler mi arriverà anche la Pocket, non so quando, però diciamo che la Boxer al momento secondo me è una delle migliori radio e avendo il modulo LRS integrato diciamo che il primo aspetto secondo me era inutile che mi andavo a mettere anche un modulo esterno comunque ingombrando spazio, perché comunque l'antenna occupa un pochino più di spazio, sono dettagli, però ovvio che si cerca di avere sempre tutto più compatto possibile, quindi abbiamo eliminato il modulo esterno dalla radio e la radio a mio avviso risulta essere molto compatta e vi ricordo che il modulo arriva a massimo a 1 Watt, quello della Boxer, però in base al modulo, in base alla radio che andrete a prendere a mio avviso come ho già detto anche sia in privato, che comunque anche in vari commenti, secondo me nella maggior parte dei casi se non facciamo long range 25-100 mW, se avete configurato bene sono sempre più che sufficienti e quindi la radio è il primo punto. Per quanto riguarda i droni, poi dopo andiamo a vedere anche altri aspetti negativi perché non è solo l'aspetto positivo, per quanto riguarda i droni andiamo a prendere un drone qualsiasi allora le riceventi sono comunque più piccoli, o per meglio dire le antenne vedete qui abbiamo questa antennina molto piccola, a mio avviso le riceventi migliori rapporto prezzo prestazioni qualità, poi dopo lo andremo a vedere, io ne ho provate diverse Beta FPV, Happy Model, in questo caso Radiomaster, comunque con quelle con cui mi sto trovando meglio sono le Radiomaster sia per le antennine molto resistenti e essendo più piccole, se fate bando, comunque se andate a sbattere spesso la prima cosa che mi potrete dare ragione non dobbiamo andarle a cambiare perché magari si rovinano insomma, rispetto all'antenna del crossfire è molto più resistente qualcuno mi potrà dire, è vero ci sono anche le antennine piccole per il crossfire ma vi posso assicurare al 100% che le antenne piccole, apro una piccola parentesi un po' più tecnica con il crossfire, essendo 8, 6, 8, 9, 1, 5 in base a come lo utilizzate le antenne devono essere lunghe per avere il miglior range mentre se avete volato parecchio, sapete che con il crossfire le antennine piccole prendono molto meno, per quello che magari avete tra le telemetri lost o comunque avete ogni tanto dei problemini in più con l'antenna lunga mentre per il 2.4 le antenne tarate che vanno accoppiate con il modulo sono quelle corte quelle corte, che appunto vi ho appena detto che sono molto più resistenti ve lo posso assicurare, perché comunque di bandi ne facciamo secondo me è un vantaggio sia per quanto riguarda la resistenza ma anche per quanto riguarda la messa in posizione sui cinewhip e sui droni comunque più piccoli altro pregio per i droni piccoli abbiamo anche le riceventi vi faccio vedere quelle con la tower comunque solo ricevente e l'antennina piccola dentro la ricevente e questo secondo me è un ottimo vantaggio la possiamo mettere anche dentro al frame ad esempio sul Flyfish RC ho messo l'antenna dentro al frame mi posso assicurare che prende benissimo e se abbiamo problemi di spazio diciamo che abbiamo risolto perché più piccola di così non so cosa si possa fare probabilmente sì perché abbiamo anche le riceventi e cose che comunque con il crossfire manca integrate all'interno delle nostre FC AIO altro vantaggio a mio avviso per i Tiny Whoop per tanti piccoli droni che magari non hanno spazio per la ricevento comunque devono essere il più leggeri possibili perché magari hanno una potenza non troppo elevata ok per quanto riguarda le riceventi allora se mi dovete chiedere una ricevente e un modulo io ad esempio quello che sto utilizzando la Boxer sul modello integrato mentre sulla TX-DCS sto utilizzando secondo me il miglior modulo al momento in commercio che è sempre il Radiomaster Ranger costa un pochino perché l'altro vantaggio che adesso andiamo a vedere è anche il costo iniziale di entrata però quello diciamo che è un modulo veramente il top secondo me che arriva a 2 watt veramente fatto benissimo vi condivido qualche video del modello perché se non l'avete capito e niente quindi per il modulo esterno vi consiglio quello in caso mentre per la radio se volete fare un'unica spesa Boxer a mani basse per quanto riguarda il costo altro motivo per cui ho scelto LRS al momento nel momento in cui faccio il video costa tutto meno allora lo starter kit chiamiamolo così se vogliamo dire solo sulle riceventi risparmiamo più della metà in base alle riceventi che andiamo a prendere ormai il Crossfire è arrivato a 50 euro più o meno a singola ricevente le LRS ancora si trovano sui 15, 20, 25 euro proprio per il modello superiore per il diversity per quanto riguarda appunto il prezzo anche i moduli le radio con il modulo già integrato solo del modulo risparmiamo veramente tantissimo cioè considerate che solo il modulo costa 80 barra 100 euro se non di più in base al modulo che andiamo a prendere contro il modulo interno che è già integrato nella radio e quindi possiamo quasi ammortizzarlo a costo zero tanto una radio la dobbiamo prendere la differenza, sì, se vogliamo essere precisi la differenza fra la radio senza LRS e con LRS in base al modello varie di quei 20-30 euro però rispetto a 80-100 euro sicuramente è un grosso risparmio niente, continuiamo un attimo con i pregi perché per il long range, perché magari ovvio che uno dice io faccio long range, io faccio freestyle allora secondo me per freestyle Cinewup che comunque la distanza in genere non dovrebbe superare il chilometro mani basse, ma anche per il long range perché è la cosa che potrebbe anche interessare io faccio long range, mi trovo bene con il crossfire ok, ma LRS non mi fido mi è capitato diverse volte vi posso assicurare che secondo me per quello che ho visto per i vari valori appunto dell'RSI, varie casistiche poi soprattutto con le O3 ultimamente, poi non so se ho avuto sfiga io LRS vince anche lì secondo me a mani basse segnale video ho fatto anche il video di come impostare RSI e capire un attimo quanto allontanarci diciamo che secondo me LRS vince a mani basse perché il segnale rimane sempre molto stabile adesso non vi sto a dire qua le distanze che ho raggiunto però con il diversity ma anche con l'antenna una singola però il mid range bar a long range l'ho fatto sempre con il diversity vi condivido un attimo il drone con la doppia antenna risulta essere veramente di un segnale stabilissimo io vi posso dire che a 250 mW dinamico con 100 mW ho raggiunto comunque distanze interessanti senza il minimo sforzo io non so quanto vi dovete allontanare ma se non vi dovete allontanare più di 5, 6, 10 km che poi forse abbiamo prima un problema di video che del segnale radio secondo me andate veramente tranquilli poi ovvio che se andiamo ad aggiungere 500, 1 watt e 2 watt per me veramente siamo proprio al pari se non meglio altra cosa sul discorso prestazioni perché adesso qui ho detto range ma a livello di prestazioni anche qui io non so se per chi vuole forse questa cosa qui la nota chi vola da anni o comunque vola spesso o comunque in freestyle, racing e quant'altro il come si dice il movimento degli stick col drone a mio avviso se tenete 250 Hz barra 500 secondo me 250 Hz è più che sufficiente notate che gli stick sono veramente molto più reattivi e vi sembra di avere il drone incollato mi è capitato spesso di passare da LRS a Crossfire e viceversa tutte le volte che sono passato al Crossfire mi sembrava di volare con un altro drone poi ne sono consapevole che è una questione di abitudine se volate sempre con il Crossfire probabilmente non lo sentite questa cosa però vi posso sicurare che una volta che passate ad LRS ritornare al Crossfire e se volete appunto veloci in freestyle avete bisogno di una come si dice risposta immediata in questi termini non c'è veramente paragone e vi ricordo che il Crossfire arriva a 150 Hz e anche su questa cosa vi posso assicurare che non rimane mai fisso a 150 Hz e nella maggior parte dei casi forse vogliamo quasi più a 50 Hz mentre LRS rimane sempre fisso a 250 Hz per chi volesse approfondire questo argomento può farlo perché ci sono diversi video ma ci sono anche i wiki di LRS che spiegano il discorso di latenza e quant'altro forse non l'ho detto all'inizio ma ovviamente non è un video per convincervi di passare dal Crossfire a LRS ma sono solo delle mie impressioni che ho voluto riportare perché appunto ho passato tutto dal Crossfire ad LRS continuando col video altre cose che mi vengono in mente ecco sì, tutto bellissimo tutto fantastico io una volta che ho trovato il mio ecosistema io sono fermo alla 3.0 adesso non mi ricordo quanto sono comunque alla 3.0 qualcosa io penso di non aggiornare più perché mi trovo benissimo ho già preso le riceventi di scorta in modo che sono già tutte aggiornate quindi se ho bisogno di fare una build nuova se ho bisogno di fare qualcosa di nuovo ho già le riceventi di backup e non devo stare in mattire per gli aggiornamenti perché adesso arriviamo un attimo alla nota tra virgolette dolente perché in realtà non è così dolente perché una volta che abbiamo capito il giro aggiornamenti, installazioni, bind, configurazioni secondo me non sono così complicate anche se devo ammettere che con il Crossfire comunque risulta essere molto più fluido spero che in futuro snelliscano i vari aggiornamenti o comunque i vari tipi di compatibilità perché è un po' come Android e Apple avendo tanti marchi avendo tanti dispositivi da aggiornare e configurare qualcosa ogni tanto potrebbe andare storto soprattutto nella procedura tramite il cavo, il computer o comunque tramite FC e quant'altro io ho sempre aggiornato in Wi-Fi ho fatto anche il tutorial tutte queste cose che sto dicendo le sto anche a linkare all'interno del video e quindi diciamo che l'unica pecca secondo me è un attimo la configurazione e gli aggiornamenti però ripeto una volta che avete capito come funziona l'aggiornamento tramite Wi-Fi secondo me non avete nessun tipo di problema niente ragazzi vediamo quanto abbiamo fatto quasi 12 minuti di video vi ho detto di essere come si dice corto però le cose secondo me sono tantissime e io non vi ho detto neanche tutto sinceramente però secondo me sono più i plus prezzo prestazioni secondo me anche come disponibilità e con un'altra cosa di droni BNF e quant'altro perché veramente anzi in alcuni casi abbiamo più proposta con ELRS soprattutto sui droni piccoli proprio per il motivo che vi dicevo all'inizio rispetto ai droni grandi e quindi allora nel mio caso specifico per tutto quello che ho potuto provare secondo me ELRS soprattutto anche per chi deve iniziare ora è una soluzione che deve assolutamente tenere in considerazione poi se abbiamo già trovato il nostro ecosistema per crossfire e quant'altro nulla ci vieta ovviamente di continuare con il crossfire perché comunque risulta essere sempre un ottimo se non fra i migliori sistemi radio riceventi per droni e comunque anche per altri modelli spero che questo video sia stato interessante non so chi è arrivato fino alla fine e noi ci vediamo alla prossima ciao